Sistemata. Ora però andiamo al nord, a quel nord, a quella Lombardia di cui abbiamo parlato all'inizio, perché è comunque la zona d'Italia dove arrivano più immigrati. Abbiamo invitato due sindaci, uno della Lega, ed è Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno nel Bergamasco, e abbiamo anche Fabio Bottero, sindaco di Trezzano sul Naviglio, Interlandi Milano, del Partito Democratico. Ora, la prima cosa la vorrei chiedere a Locatelli, parto da lei. Abbiamo sentito questi numeri che dicono che non c'è una reale emergenza. Immagino lei non la pensi così. No, ma a me, innanzitutto, ho ascoltato con interesse i numeri sviscerati finora, e non può non balzare all'occhio il fatto che se negli ultimi tre anni ci sono stati 170-150 mila sbarchi all'anno, vuol dire che in Italia sono arrivate 450-500 mila persone. È stato detto che ci sono solo 170 mila persone in attesa che hanno fatto richiesta d'asilo, vuol dire che gli altri dove sono? Vuol dire che 300 mila persone sul territorio italiano. Qualcuno è andato via. Ma 300 mila persone sul territorio italiano, non lo dico io, ma lo dice Gabriele, il capo della polizia, sono sul territorio italiano pur non avendo alcun diritto a stare qua. Quindi qualche problema effettivamente c'è. Non bisogna basarsi solo su quei dati che sono stati detti, bisogna basarsi anche sul fatto che, ad esempio, se la Raggi adesso ha cambiato idea, miracolosamente, sulla gestione dei profughi, è perché sul territorio sono tanti quelli sommersi, come è stato detto all'inizio della puntata. Perché? Perché ci sono persone che sì, sono all'interno di alcune reti, altre che invece sono sul nostro territorio. E il problema non ce l'hanno il centro delle città, si trova soprattutto nelle periferie, nei quartieri, oppure nei comuni che tranquillamente si ritrovano sul territorio. E nel suo piccolo comune qual è la situazione? Lei è aderito a questo sistema voluto e cercato dal Biminale con i singoli comuni? No, non ho aderito, né io, né gli otto comuni che fanno parte del mio ambito sociale. Perché? Perché siamo di diversa estrazione politica, ripetiamolo. Perché? Perché siamo consci che sul territorio, avendo già una media, una media, ripeto, nel nostro territorio, del 17% di immigrati regolari, dobbiamo ovviamente prima occuparci di queste persone che sul territorio lavorano da anni, che stiamo cercando di integrare anche con i figli, nonostante ci siano anche problemi durante i giorni, perché sono successi anche i fatti abbastanza gravosi sul nostro territorio. E quindi quello che cerchiamo di fare è sistemare la situazione attuale. È impossibile per noi renderci complici di questo sistema che si è dimostrato e si sta dimostrando fallimentare, perché il problema qual è? Non è solo l'accoglienza di adesso, che uno dice sì, sono solo due ogni mila abitanti. E' l'accoglienza di quelli arrivati già nel passato. Scusi, è se riduto... Il problema però è anche il fatto che non c'è un progetto di medio e lungo termine, quindi passati i due anni di queste persone, cosa ne sarà? Li stiamo abituando a un tenore di vita che sarà impossibile garantirgli quando sarà finito il passato.